André Sordelli, responsabile marketing e commerciale della Scaligera Basket, inizia oggi la quarta edizione della Scaligera High School Cup. Sì, la High School Cup è il nostro torneo interscolastico di Palacanestro, è giunto ormai alla quarta edizione, coinvolgiamo scuole da tutta Verona e provincia, quest'anno sono 16 gli istituti partecipanti con oltre 400 studenti, studenti che si divertono sia sulla parte ludico-sportiva e quindi stanno giocando, ma anche sulla parte organizzativa, quindi l'allenatore è uno studente, il team manager ha detto stampa, sono tutti i ragazzi della scuola che cercano di coinvolgere il più possibile il proprio istituto. Scaligera Basket che in questo modo conferma la propria vicinanza al mondo della scuola e al territorio di Verona e provincia. Sì, ci teniamo molto come Scaligera, come famiglia Pedrollo a svolgere sia un'attività che quella di promozione della Palacanestro, non ruota quindi tutto intorno alla prima squadra, la Serie A, ma anche quello che è l'attività con i ragazzi più piccoli, quindi dal mini basket al settore giovanile e questa iniziativa che ha preso piede negli ultimi anni e che ci sta dando grandi soddisfazioni e che riguarda gli studenti delle scuole superiori.